Cari amici appassionati di motorsport, benvenuti a questa nuova puntata di Sport Today speciale Formula 1, siamo arrivati alla terza puntata che va un po' a chiudere il tema che abbiamo voluto affrontare con Luca Preti già due puntate fa, ovvero gennaio rappresenta come tantissimi tifosi sanno un mese di compleanni, di ricorrenze particolari, di date di nascita particolari, ovvero quelle di tanti protagonisti che hanno fatto la storia sia come campioni del mondo ma anche senza diventare mai campioni del mondo, della Formula 1. Prima di andare a trattare il terzo pilota devo dare assolutamente il benvenuto al mio compagno di squadra Luca Preti, ciao Luca. Ho mal di testa, sono tre giorni che sto cercando, perché dovete sapere che non me li ha detti veramente, non mi ha detto niente, ho provato a telefonarle, a scrivere, non ha detto niente, io sono, perché ho partito con Sumacher, bella sorpresa, la seconda pensavo ad un altro pilota, mi ha chiesto di Hamilton, potrebbe essere scontato, dopo uno dice, per la terza mi ha detto no, adesso pensa a qualcosa, io non so cosa può essere, adesso devo dire perché... Adesso te lo dico, perché come ti ho detto già nella prima puntata con Schumacher, andiamo in ordine cronologico, giusto per non dare delle preferenze, perché secondo me non è giusto, ogni pilota a suo modo ha dato un contributo molto importante alla storia di questo sport e questo pilota, nato il 18 gennaio del 1950, tra l'altro lo stesso anno in cui è nata ufficialmente la Formula 1, perché poi nel maggio di quell'anno si sarebbe corso il primo Gran Premio della storia a Silverson, tra parentesi vinto da Nino Farina, quindi fu anche un italiano a vincere. Su, su. La Alfa Romeo, non mi fa prendere male, poi mi fai ansiare, no aspetta, aspetta. Un pilota, ti sto parlando di un pilota che non ha mai vinto un mondiale in Formula 1, ma che con il suo modo di interpretare le velocità e le corsa ha fatto ammalare i tifosi della Ferrari, di una febbre che difficilmente sarebbe passata. Sto parlando di Gilles Villeneuve. Mi hai fatto ricordare adesso che il suo compleanno era il giorno del compleanno di mia madre, scusate questo dettaglio personale, è verissimo, lui è nato il 18 gennaio. Del 1950, un pilota che io ho avuto modo solamente di leggere le sue imprese, di guardare le sue imprese in tantissimi documentari, tantissime testimonianze, ho avuto il grande privilegio di scambiare due chiacchiere con Mario Poltronieri che raccontò le sue imprese in pista. Il coraggio leonino di quando commentò il sorpasso nel Gran Premio di Francia con René Arnoux. Villeneuve è stato criticato ma anche tanto amato, secondo me, Luca. Il suo modo di interpretare la velocità così folle però ha fatto impazzire i tifosi, cioè veramente creava uno spettacolo nello spettacolo. E anche il rapporto, la lealtà che ha dimostrato, il supporto che ha dato per riportare poi il mondiale a Maranello con Gioci Schecter nel 79 fu veramente fondamentale. Come fondamentale fu anche la fiducia che decise di dargli il comandatore Ferrari, Luca. 8 maggio, 13 e 52 dell'8 maggio 1982. Questo per me è scritto a fuoco nel cuore, diciamo così. Ho pianto come sto facendo adesso, per un po', perché mi commuova ancora a pensare a quel momento che stavo guardando, cioè che ricevetti la notizia perché allora non c'erano le prove in diretta come oggi, ma uscì la notizia per radio e per ore ho pianto, perché per me era la guida fatta impersonificata in lui. Un mezzo patto, un canadese che passa dalle motoslitte alle macchine di Formula 1, in altro modo non poteva essere definito e piaceva molto a Ferrari proprio per questo, perché il suo motto era tu il limite lo trovi quando lo superi, finché non lo superi tu il limite non sai dov'è. E questo a Ferrari faceva capire che era uno che sicuramente alla macchina faceva dare il 100%, in realtà lui faceva dare il 200% alle macchine perché lui girava su tre ruote, lui girava senza lettoni e vinceva lo stesso, lui riusciva a fare qualcosa tutte le volte che quelle macchine di allora, che se le andate a vedere oggi e una delle opportunità è il Minardi Day a Imona, vi spaventate perché guidavano con il busto completamente fuori, c'è un lamierino attorno. Erano delle tombe col motore. Castrati sotto l'asse anteriore, un cambio che io ci provo ogni tanto ma non ce la fai a muovere, questi ci facevano i 320-330 all'ora a Monza, prendevano le curve di traverso e lui era il prototipo, il miglior esecutore di questo, cioè lui è veramente stato per me un esempio di guida, io cercavo di imitarlo in tutto e per tutto perché in quegli anni già guidavo, qui mi autodenuncio, io la prima volta guidato per strada era una Fiat 126 Blu e avevo otto anni appena compiuti, anzi forse è il giorno del mio compleanno. Quindi poi avevo campagne, le facevo di tutte e di Villeneuve, a parte tutte le cassette delle gare, cercavo, allora c'erano i libri, le interviste, cercavo di andare a vedere perché volevo capire come aveva fatto quella volta a togliere dieci minuti del tempo tra Monaco e Maranello. E lui ha fatto così e io me lo segnavo perché dicevo quando avrò la patente ci voglio provare, voglio andare a vedere cos'era e l'ho fatto ma non l'ho fatto come lui. Pensa che Jody Schecter stava male quando andava in macchina con Gilles. Certo, è vero. Stava proprio male. Perché certe gallerie che uno le fa non alle velocità che le faceva lui perché oggi non è più possibile, quindi io ho giocato un po' su sto cosa, non pensate a quello che faceva lui allora, erano anni completamente diversi. Diversi. Anche con un'autostrada totalmente vuota, dici questo è solo uno che ha una follia controllata perché alla fine lui diceva io ho paura ma quello che faccio so di quello che sto facendo. Quindi ti dava anche la sensazione di quello che era veramente il suo talento, che era sensibilità di guida. Allora si guidava veramente col sedere, non con i cento pulsantini che hai sul volante, perché te avevi un volante con tre razze, se andava bene, il cavallino nel mezzo e spingevi. E entrare a vedere certe curve che lui sai a quanto le faceva, dici questo era veramente molto, molto bravo. Il Ferrari si arrabbiava sempre perché lui tutte le volte che entrava ai dipendenti in Maranello gli faceva divertire perché con la sua 308 cominciava a fare i burn out, oggi si chiamano burn out, allora si chiamavano testa coda nel piazzale. E usciva e gliene urlava dietro, poi dopo lo guardava come un figlio che lui non ha mai avuto a quel livello ma che gli sarebbe tanto piaciuto perché probabilmente è quello che Ferrari non era riuscito ad essere come pilota. Lo è diventato come costruttore di auto ma in lui vedeva la stessa grinta, la stessa cattiveria e voglia di vincere che lui aveva come costruttore di auto. Il commendatore poi nel momento in cui è avvenuta la tragedia di Zolder è caduto in un mutismo totale, è stata una grandissima tragedia, una grandissima perdita. Io come ti ho detto purtroppo non ho mai avuto modo di poter vedere con i miei occhi Villeneuve correre, ho solamente potuto studiare e raccogliere più notizie possibili e testimonianze su quello che è stato il suo operato nel mondo della Formula 1 e anche altri aneddoti. In occasione del quarantennale della sua scomparsa con la testata motorsport.com abbiamo creato una piccola serie divisa in quattro puntate e una di queste puntate è dedicata agli oggetti che facevano parte dell'equipaggio di Gilles, quindi la tuta, la cintura, le scarpette, il casco. E ti dirò di più, abbiamo avuto modo io e il direttore Franco Nugnes di andare nella casa di Jonathan Giacobazzi, il quale ci ha aperto, sì, lui tra l'altro appena si entra in questa casa c'è subito la carrozzeria di una delle ferrari di Gilles, è molto impattante, è molto emozionante, ma quello che mi ha emozionato moltissimo è stato vedere quegli oggetti che aveva in quegli attimi, in quei giorni, in quei momenti che poi hanno preceduto quello che tragicamente è accaduto ed era veramente una cosa da pelle d'oca, Luca. Mi sono commossa molto, tra l'altro ripensando anche al fatto che il mio primo modellino è stata la sua 126CK, me la sono proprio tenuta, mentre iniziavo a scrivere i miei primi articoli me la tenevo dietro allo schermo del PC, quindi per me è stato veramente molto emozionante e non oso pensare a quanto lo sia stato per voi che avete vissuto quegli anni di vedere una vera e propria rivoluzione in pista, perché lui comunque rappresentava una rivoluzione nel modo di interpretare la velocità. Secondo te, ti faccio una domanda forte, dimmi, sarebbe mai potuto diventare un campione del mondo Gilles Villeneuve? Assolutamente sì, l'anno in cui è morto era l'anno in cui lo avrebbe vinto, per due motivi. Lui lo poteva vincere l'anno che lo ha fatto vincere Schecter e lì ha dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, la sua fede nella Ferrari, perché di questo si trattava, e il suo rispetto per i colleghi. Al contrario di quello che dicevano tutti, che era un pazzo, lui aveva un rispetto enorme per i suoi colleghi e lo dimostrò nello scontro con Arnoux, perché quella bellissima, ultimi due giri, tre giri, non era solo, c'era Arnoux, quello veramente era un pazzo a guidare. Perché la vittoria di Jabouille è proprio passata in secondo piano, lì era la lotta per la seconda posizione. Jabouille, lascia lo stare, non c'è... La cosa più importante era... Arnoux e Villeneuve, e ripeto Arnoux, perché ripeto, c'era anche lui, poi noi eravamo tifosi Ferrari, guardavi Villeneuve, anche perché alla fine l'ebbe vinta lui, ma in quel periodo dovete pensare che c'era un dominio della Renault Turbo rispetto alla Ferrari ancora aspirato, come abbiamo visto con Mercedes e Red Bull in questi anni. Quindi vederlo combattere in quel modo e tenerlo dietro nelle curve, perché nei rettilinei Arnoux andava via. Lui gli arrivava dietro con delle staccate non al limite, oltre il limite tre volte, e Arnoux raccontava, io me lo trovavo dentro tutte le volte, e a spingere. E io spingevo, perché si tirava mica indietro lui. Quindi veramente una lotta bellissima. Ti fa capire che proprio questo era immenso. Lui ha insegnato a guidare, secondo me, a tantissimi altri, non tanto come tecniche, perché dopo ognuno lì ha le sue specifiche, ma con coraggio di dare tutto, che non è incoscienza, ma è paura, ma devo raggiungere l'obiettivo. Quindi secondo me è stato anche un modo, e te lo dico pensandoci in questo momento, di capire la vita, cioè di affrontare la vita in un modo diverso. Sai che c'è quel detto famosissimo, non hai usato, l'importante, cioè non è come cadi, ma come ti rialzi. E lui lo vedevi nelle corse, tutte le volte. Perché lui aveva la macchina sotto le ruote, era vintesimo, faceva di tutto per arrivare al diciannovesimo. La lettone spiegato che era messo così e lui andava avanti lo stesso. Non c'è problema. E nonostante qualcuno diceva che non gliene fregava niente, perché in Giappone quella gara mai vista da nessuno, si vedevano solo le foto in cui morirono anche degli spettatori, secondo me lui l'ha sofferta tantissimo. Era comunque un pilota anche molto sensibile. Cioè quella sua durezza che qualcuno gli riconosceva era secondo me un po' di timidezza e di delicatezza che lui all'esterno dimostrava in questo modo, un po' per proteggersi anche. Perché il fatto stesso di aver sofferto così un tradimento di Pironi, perché il tradimento di Pironi c'è stato, punto, lo ha portato ad arrivare in quella gara a dire no adesso basta, mi hai stancato. La scuderia secondo lui non l'aveva protetto, ma non ce l'aveva con la scuderia, era un modo di sfogarsi con la scuderia, mio parere. E quindi andò fuori, anche se non c'erano speranze, tentando l'impossibile, non si capì con Joachim Mas, è successo quello che è successo, ma nel tentativo di farla pagare a uno che l'aveva tradito, non uno che l'aveva battuto. Tu mi puoi battere, perché se sei più forte mi batti, riga, e questo è un evento sportivo, ma mi hai tradito dal punto di vista personale, quello ti faceva capire che cos'era, secondo me, veramente Villeneuve. e Maredetta quella volta che non si è capito, cioè non ci sono colpe quando ci sono incidenti così, ma lì ha sbagliato tutto lui, perché Mas, anche ripensandola mille volte, fece quello che si era sempre fatto, gli lasci la traiettoria. Si, che l'ha postato per dargli la traiettoria. Lui invece l'ha visto un attimo prima, perché arrivava comunque da dietro molto più veloce, ha detto non si sposta, mi sposto io, quindi non eri, non concentrato, ma non eri lucido al 100%, perché il tuo obiettivo non era portare in fondo la macchina, era battere più non lì in un momento in cui avevi una macchina che non c'era, e anche lì il fatto che la macchina non andasse è perché non l'avevi messa a posto, pensavi andare giù e tenere giù il piede, quindi ha sofferto molto quel tradimento. E io ti invidio tantissimo, perché mi stavo per mettere a piangere, primamente tu raccontavi della tuta e tutte queste cose, a casa di Giacobazzi, perché questo è un altro personaggio che andrebbe ricordato, poi un po' dimenticato, ma a parte aver rappresentato qualcosa nel marketing, che in un settore mai comunicato fece una campagna di comunicazione del suo vino tramite un pilota, e fu uno dei primi in quegli anni a usare un testimonial sportivo. Allora in Italia non avevamo delle cose così, invece vi ricordate tutti il tutone bianco, con Giacobazzi dappertutto, e Giacobazzi sponsorizzava Villeneuve, poi appoggiava anche la Ferrari, perché per carità erano tutti amici, eccetera, ma loro puntavano su Villeneuve, allora si sponsorizzava il pilota che portava i soldi alla macchina, quindi, cioè è stato veramente un'era e un personaggio che attorno a sé ha raddottunato tante di quelle cose che chi l'ha vissuta ha vissuto veramente qualcosa di unico e irripetibile, molto di più di quello che abbiamo vissuto oggi, e assolutamente sì, tornando alla tua domanda, questo sarebbe diventato un grandissimo campione del mondo, probabilmente per uno o due mondiali, non di più, un grandissimo campione del mondo, e pur non essendo lo Stato è immortale per chiunque si avvicini alla Formula 1, perché la tua generazione non l'ha mai visto vivo, no? Tu sei postuma, molto postuma, però sapete tutto di lui, altri piloti a quei livelli non ce ne sono tantissimi, vero? beh Luca, devo dire che questa tripletta di puntate l'hai apprezzata, adesso metto giù e mi metto a piangere come un disperato, vado cercando la mia ferreria, sì guarda, no, non è una battuta, per me, a parte tornare indietro, tornare giovane, e alle emozioni che vivevo, anche sul divano insieme a Enrico, così lo salutiamo Enrico, che sono emozioni che non ritrovo più da diversi anni, capito? perché piloti di quel calibro, forse c'è Alonso adesso, o Hamilton, che te le fanno rivivere, perché vedi il rischio, ma calcolato, facendo, perché sai quello che stai facendo, certo, non qualche spericolato, che fa un numero, la volta che gli va bene, viene il numero, la volta che gli va male, distrugge macchine, o butta fuori i piloti, e si vede, credimi, si vede, quando sono tanti anni, che le guardi le gare, si vede, infatti quando vedi, certi giudizi, e poi ci fermiamo, perché dopo apriamo il tema, è perché il tempo stringe, e te ne accorgi, te ne accorgi, e dopo lo vivi male, perché dici, hanno penalizzato quello, non ci stava, perché si vedeva, che stava facendo fare, una cosa giusta, oppure non lo hanno penalizzato, ma quello ha fatto, una stupidaggine, e chi ha guidato un po' in pista, le capisce al volo queste cose, quindi chiudo qui. Preparati, perché comunque nel corso di questa pausa, oramai breve, perché tra poco ci siamo, si iniziano a presentare le macchine, poi ci saranno i test, comunque nel corso di questa breve pausa, invernale, prima della stagione 2024, ti farò, ti stupirò, perché vorrò affrontare tante cosine storiche, sono sicura che, anche per i nostri amici, anche i più giovani che ci seguono, saranno sicuramente delle pilloline di storia, molto molto interessanti, infatti ci sapere soprattutto, se avete un tema in particolare, che volete, che trattiamo nelle puntate, ormai sei diventato il mio compagno di team, è ufficiale, ti presento come compagno di squadra, e dai, parliamo di Formula 1, che succede? Un attimo, puoi ripetere? No, ho perso l'audio un attimo, ti scusami. oramai sei diventato il mio compagno di team, perché parlando di Formula 1, è normale che io ti chiamo compagno di squadra, e non semplicemente collega. Ah, va bene, va bene. Eh, va bene? Ti ringrazio, perché non mi hai detto il mio team manager, o quello, il vecchio che sta dietro il box, ma uno che guida ancora. Eh no, perché guidiamo tutti e due, guidiamo tutti e due. Infatti, ti invito, perché io sto cercando di fare qualcosa, per andare al Mille Miglia, a proposito di autostoriche, ragazzi, il Mille Miglia quest'anno passa dall'altra parte, quindi passa anche da regioni, che erano anni che non passa, andatele a vedere, perché si vede, se avete un po' di passione per il motore, vedete delle cose meravigliose, noi faremo di tutto per esserci, tu ci sei se ci andiamo, vero? A fare una tappa almeno. Mi devo un attimo dividere, per ancora, ancora una cosa. Tanto passiamo da casa tua, vicino a casa tua anche. Va bene, vi aspetto. Intanto, cari amici, io vi do appuntamento alle prossime puntate, ovviamente anche con Luca, vi ricordo che poi ci sarà, nella giornata di mercoledì, la puntata con l'ospite, avrò con me dilettacolombo di automoto.it per andare un po' a parlare, se di temi attuali che non, di quello che sta succedendo, insomma, nel mondo della Formula 1, e caro compagno di squadra, ti do appuntamento alla prossima puntata di Sport Today, mi raccomando amici, seguiteci, iscriveteci nei commenti, tutte le vostre richieste, i personaggi che vorreste che magari noi andassimo a trattare, qualche aneddoto storico che volete, insomma, che noi vi raccontiamo, seguiteci, iscrivetevi al nostro canale, non perdetevi i nostri prossimi video. Ciao a tutti, ciao Luca. Ciao, ciao, ciao.